ciao sono giuseppe del modellismo sant'alessandro benvenuti sul canale modellismo italiano oggi vi presentiamo questa bellissima nave del costruttore amati un ottimo costruttore italiano di torino è la my flower un galeone inglese del 1620 naturalmente passiamo all'unboxing e vediamo qual è il contenuto di questo kit un kit che comunque ha una dimensione di 65 cm e in scala 1 e 60 e naturalmente è costruito il kit totalmente in legno con degli accessori in metallo ora andiamo a vedere ecco apriamo la scatola come potete vedere abbiamo anche la bandiera inglese tutto legno pretagliato a laser un ottimo kit di spiegazioni ecco i listelli per il fasciame abbiamo listelli in noce abbiamo i nostri listelli che servono per fare le alberature un corpo delle vele da tagliare comunque già pronte della my flower e tutto il kit dell'accessoristica quindi abbiamo nostre bigotte i nostri accessori per le scale i chiodini di paio lato una bella scialuppa in metallo l'ancora e tutto quello che è il refe per realizzare il cordato è una nave di bell'impatto veramente veramente carina molto interessante di una difficoltà media e anche dal punto di vista del numero di ore di lavoro è importante però non è una di quelle navi che impiegherete i 16 anni a fare super quindi vi consigliamo l'acquisto oggi nel 2022 costa nel nostro negozio 150 euro le potete trovare la potete trovare sul nostro sito shop tattino model santa alessandro punto com oppure vi aspettiamo il negozio al modellismo santa alessandro via garibaldi 4 a bellimo grazie e allo prossimo